Ricetta Fusilli con pollo e Emmental, una delizia per i tuoi sensi. Fusilli con pollo e Emmental Ingredienti Fusilli Pollo Emmental Preparazione Prendi una pentola e riempila d'acqua. Porta l'acqua a ebollizione e aggiungi i fusilli. Nel frattempo, taglia a cubetti il pollo. Scalda una padella con dell'olio e cuoci i cubetti di pollo fino a quando non saranno croccanti. Scola i fusilli e versali nella padella insieme al pollo. Aggiungi l'Emmental grattugiato e mescola bene. Lascia cuocere il tutto per alcuni minuti a fuoco basso. Il piatto è pronto, servi caldo!